Come abbiamo trascorso il Natale? Benissimo! Benissimo? Sì, molto bene, grazie. Tutto tranquillo. Oggi perché abbiamo scelto Scilla, venire qui a Scilla? Telespazio. Perché mio marito è di qua vicino e allora abbiamo fatto un giretto qua. Il posto è meraviglioso, fra l'altro se avevamo il costume ci facevamo il bagno. Ma ho solo le gambe. Buona giornata! Buon sentire, come abbiamo fatto il trascorso Natale? Beh, non c'è male, insomma, è tranquillità. Oggi abbiamo scelto Scilla per rilassarci un po'. Com'è questa meta qui a Scilla? Beh, abbiamo visto un po' di sole. Per la verità, allora abbiamo detto che Scilla è sempre una bella meta. Per noi che siamo, insomma, qua residenti nelle vicinanze, quindi abbiamo visto che c'è pure tanta gente. Insomma, è una bella giornata. Ha scorso bene Natale? Sì, sì, tutto a posto. Oggi abbiamo scelto Scilla, ecco, questa meta... Come mai si sceglie? Una bella passeggiata, rilassante. Facciamo a Scilla, è bellissima? Sempre bella, sempre caratteristica, ha un suo fascino. E quindi merita oggi venire qui a fare la scuola? Una visita, sì.